L'attuale condizione obbliga noi a seguire le indicazioni che il Ministero della Salute e la Protezione Civile ci ha somministrato attraverso decreti, quindi attraverso atti ufficiali ai quali noi dobbiamo uniformarci. Il modo in cui è stato affrontato il primo caso ha dimostrato che quando nei giorni scorsi abbiamo raccontato di essere pronti anche al caso numero uno, di fatto così è stato. Il Presidente Emiliano ci somministra ogni giorno una richiesta nuova in quanto responsabile del sistema sanitario regionale, ci chiede ogni giorno di effettuare un passo in più. Il passo di oggi, cioè all'indomani della rilevazione del primo caso, è preparare un piano per un'eventuale pandemia, per essere pronti, per non essere spiazzati da un rischio di diffusione rilevante. C'è un sito regione.puglia.it slash coloramirus all'interno del quale ci sono tutte le disposizioni ministeriali, tutte le circolari regionali e una sezione dedicata alle domande più frequenti con le risposte anche descritte in modo elementare, tanto da far comprendere a tutti coloro che hanno un dubbio qual è il percorso da seguire nel caso in cui vogliano verificare la loro condizione di salute. Nel decreto che è stato approvato ieri e che ha dato origine all'approvazione di una ordinanza da parte del Presidente Emiliano c'è una parte che rileva in modo chiaro ed inequivocabile le azioni che devono essere poste in essere se si arriva da zone rosse o da regioni all'interno delle quali vi sono delle zone rosse. Il Presidente Emiliano durante l'audizione oggi abbiamo ascoltato ha intenzione di suggerire a tutti di seguire una strada di questo tipo che si badi è una strada ordinaria, non è una strada da seguire in una condizione come questa. Ha semplicemente ricordato a tutti che forse procedere soprattutto in questo periodo a una maggiore azione di sanificazione dei luoghi pubblici potrebbe portare in via derivata alla limitazione del rischio di diffusione di qualsiasi tipo di virus, anche il corona.